A livello nazionale scontro sull'utilizzo e sull'efficacia dei voucher, gli strumenti pensati per combattere il lavoro nero e far emergere le piccole prestazioni lavorative occasionali e per molti, come ad esempio la CGL, trasformatisi nel nuovo meccanismo di precarizzazione del mondo del lavoro. Il governo Gentiloni ha annunciato di voler rivedere ma non abolire lo strumento, verso il quale i sindacati sono molto critici. Per quanto riguarda l'Abruzzo, secondo i dati diffusi dalla Will regionale su base Istat, l'utilizzo dei voucher è massiccio. Oltre 3 milioni di ore vendute nel 2016, quasi metà di quelle vendute nel Lazio e tre quarti di quelle vendute in Campania, regioni molto più popolose. Nel 2008 i voucher venduti in Abruzzo rappresentavano l'1% di quelli venduti in Italia, oggi si è arrivati, scrive la Will, al raddoppio dell'incidenza con il 2,1%. Tra le province, quella in cui i voucher sono più usati e chieti, con oltre un milione di ore vendute, seguono Pescara e Teramo quasi 800 mila la prima e 700 mila la seconda e chiude l'Aquila con 470 mila. Il dato dei voucher, recita la nota del segretario della Will Abruzzo Roberto Campo, va letto assieme agli altri dati del mercato del lavoro. Il numero degli occupati, che prima della crisi in Abruzzo oscillava intorno al mezzo milione, ed ora si attesta a 475 mila. La flessione dei contratti a tempo indeterminato, la disoccupazione giovanile giunta al 48%, dati che, sempre secondo l'analisi di campo, testimoniano come non si possa avere una posizione ideologica sui voucher che, dati aggiornati al 2016, costituiscono in Italia 150 milioni di ore erogate, più di un terzo di tutte quelle del sistema della somministrazione, cioè delle agenzie per il lavoro. Per questo il sindacato rimarca la necessità di rivedere il sistema, che, sottolinea, nella sua finalità originaria, doveva essere virtuoso, ma che ora costituisce la base per legittimare attività che altrimenti dovrebbero essere regolate dai contratti, con tutte le tutele che ne conseguono per i lavoratori.